Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, l'argomento di oggi è molto soft, per cui possiamo affrontarlo senza particolari patemi. Oggi parliamo delle stringhe, che è un argomento che conosciamo già, ci abbiamo già lavorato parecchio e anche la teoria molto scarna che c'è dietro ormai è ben nota, solo che vediamo alcune funzionalità C++ che alcune forse non le abbiamo viste, vediamo alcune potenzialità tipiche del C++ per lavorare con questi oggetti che sono, come sapete, delle sequenze di caratteri chiusi dal terminatore nullo. Ormai ci avremmo fatto l'indigestione su questo concetto. Ciò nonostante vale la pena fare qualche piccola precisazione, qualche ripasso. Innanzitutto, cosa intendiamo per stringa letterale? Questo io non l'ho mai detto, ma si chiama stringa letterale quella sequenza di caratteri che vedete messa all'interno di un codice C fra una coppia di doppi apici. Per esempio, questo ABC qui sarebbe, in quanto compreso fra doppi apici, un oggetto costante denominato stringa letterale. Ecco, non tutti sanno, una cosa abbastanza curiosa, insomma, che questa stringa qui, essa stessa, appunto, è un vettore. Cioè, quello che state vedendo qui, ABC, è un vettore, è rappresentato internamente, se voi lo usate dentro il codice, e per esempio, non so, mettete uguale ABC, quella ABC lì è rappresentata come un vettore di caratteri, di quattro caratteri, ovviamente, perché c'è il quarto, indovinate che cos'è? Ovviamente. Quindi, addirittura, lo si può, quell'oggetto lì, dereferenziare. E questa è una cosa che non tutti sanno. Se, per esempio, dereferenziate, mettendoci l'asterisco davanti, questo oggetto qui, cioè scrivete in qualche parte del codice, asterisco, doppio apice, ABC, doppio apice, è come se scriveste ABC di zero. Cioè, andate a prendere la maiuscola. E se fate, dereferenziate ABC più 1, andate a prendere la B, se fate più 2, andate a prendere la C, se fate più 3, andate a prendere il caratteri del mio singolo. A cosa può servire questo? Non lo so, però è così. Va bene. Comunque, le stringhe, basta, non... Veramente, anche a me mi è passata la... mi viene la nausa ormai a parlarne. Come si definisce una variabile stringa? Ecco, vale la pena un attimo riflettere su questo. Adesso debbo dire che non so se con C++11 le cose sono cambiate, però all'epoca del C++98 ancora non era chiaro se un vettore di caratteri, cioè char, per esempio dati 80, consentisse di mettere dentro l'ISO859115, l'Unicode, l'Utf8, sì o no. tant'è che per avere la sicurezza che potesse essere compatibile su tutti i compilatori, intendo dire, ci si metteva prima unsigned, prima di char. Questo aveva l'effetto di considerare non il char asci americano su 7 bit, ma consentiva di considerare come char tutti gli 8 bit del byte. E quindi, come vi ricorderete, dalla prima lezione di questo corso, che l'ISO8859 è su 8 bit. Quindi per prendere le vocali accentate, per avere la sicurezza di poter mettere, per avere la sicurezza di poter mettere dentro un vettore le vocali accentate, su qualunque compilatore, bisogna premettere unsigned a char, nella definizione di un vettore di caratteri, destinato a ospitare una stringa. Adesso dovrei fare delle verifiche, sinceramente, fatele voi. Mi sono sempre dimenticato di farle. Ok. L'inizializzazione di una stringa, come l'inizializzazione dei vettori, l'abbiamo vista quando abbiamo parlato a suo tempo dei vettori, può essere fatta al momento in cui si definisce appunto il vettore di caratteri, semplicemente in questi modi, cioè racchiudendo o i vari asci dentro una coppia di parentesi graffe, o inizializzandola direttamente alla costante che abbiamo visto poco fa, la cosiddetta stringa letterale. Non c'è differenza fra le due. Non c'è differenza fra le due. Si può anche definire una stringa in questa maniera, cioè non definendo la dimensione del vettore, ma in realtà questo ne abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei vettori. semplicemente questa scrittura qui, ad esempio, inizializzerebbe il vettore stringa test a una dimensione che l'andrebbe a leggere il compilatore direttamente dalla stringa che gli è passata al lato della inizializzazione. Quindi non è necessario andare a scrivere qui la dimensione, perché la prende direttamente dalla stringa costante che sta a destra del simbolo di assegnamento. Quello che qualcuno alle prime armi qualche errore che farete anche voi sicuramente che non bisogna fare tanto comunque il compilatore non te lo fa fa è assegnare una stringa a runtime. Cioè durante... non nell'inizializzazione intendo dire. Non in fase di inizializzazione. Questo perché perché i vettori non si possono assegnare. Essendo la stringa un vettore di caratteri questo vincolo vale anche per lei. Quindi non potete scrivere all'interno del codice una stringa uguale a bc ma potete scrivere quando l'andate a definire char una stringa uguale a bc. Ma se l'avete già definita la stringa non la potete assegnare a una stringa. se avete già definito la variabile stringa non la potete assegnare né a una costante letterale stringa né a un'altra stringa. Sempre per il solito problema del fatto che è tutto riconducibile al fatto che i vettori sono puntatori puntatori a primo elemento non hanno una dimensione per cui fare una cosa di questo genere consentire una cosa di questo genere effettivamente forse questa è l'unica è l'unica è una delle poche diciamo così verifiche di sicurezza che ci introduce cioè non trofa fa questa operazione perché il rischio di fare un buffer overflow è altissimo. però vi ricordo che non si possono assegnare due vettori ma si possono assegnare due strutture che hanno campi di tipo vettore questo perché dentro la struttura la dimensione del campo vettore è definito e quindi non c'è problemi qui invece una stringa se si vede non so se si vede una stringa quanto è lunga non si sa perché è un puntatore e quindi andare a fare questa operazione è chiaramente un'operazione rischiosa ecco perché il C non te la fa fare chiuso anche questo andiamo a vedere come si comportano gli operatori per l'input out con le stringa anche qui l'abbiamo già visto abbiamo visto ovviamente gli operatori li abbiamo usati lungo tutto questo corso già l'estrattore l'inseritore e quindi sia per leggere da un flusso di input che per stampare un flusso di output adesso cerchiamo di ragionare un pochino ricordiamo che l'operatore di estrazione che estrae dei byte da un flusso di input termina la lettura quando trova uno spazio o un tab e quindi non lo va a trasferire nel vettore dove dovrebbe andare a trasferire più volte ho parlato di quanto sia veramente straordinario questo operatore l'operatore di estrazione perché a seconda del tipo della variabile che trova la sua destra fa partire una funzione oppure un'altra quando trova la sua destra un vettore di caratteri fa partire quella funzione che abbiamo appena detto che legge un byte alla volta lo va a mettere nel file di caratteri fino a quando non trova uno spazio o un tab a quel punto si ferma inoltre dopo che ha depositato tutte cose che abbiamo detto le sto ripetendo dopo che ha depositato i caratteri nel vettore non finisce lì il suo lavoro ma mette lo stamping finale il byte nullo nel primo elemento libero del vettore gli altri elementi del vettore posto che siano stati allogati e ci siano rimangono non utilizzati adesso sistematicamente proviamo sistematicamente a rivedere alcune funzioni che abbiamo utilizzato una funzione che abbiamo utilizzato la get e poi vedremo la get line la get normalmente abbiamo utilizzato la funzione get l'abbiamo vista in due esempi cin.get che aveva un solo argomento una variabile di poco carattere oppure la .get applicata da un flusso file per esempio mio flusso.get l'effetto è lo stesso andare a prendere un byte dal flusso o di input o da un flusso file e metterlo dentro la variabile che gli passavamo come argomento unico argomento qui invece stiamo vedendo la get dove ci ho messo all'inizio flusso perché flusso può essere ripeto presa da un flusso file o dall'input quindi non specifichiamo il comportamento lo stesso però con due argomenti e cioè addirittura nessuno dei due poi è una variabile di carattere il primo è un vettore di caratteri e il secondo è un intero un unsigned in realtà ecco per adesso questa la vedete sulla slide adesso però se c'ho la internet non so se sono sicuro che ce l'ho forse si vi invito quando avete bisogno di capire come è fatta una funzione di libreria e come si comporta andate sempre a vedere le ultime specifiche del linguaggio per esempio questa qui io adesso l'ho messa sulla slide però meglio sarebbe piuttosto che andare a vedere le slide meglio sarebbe anche per gli anni a venire andare a vedere le specifiche del linguaggio come sono riportate sui siti ecco il sito C++ è aggiornatissimo e ti dà ogni volta che hai bisogno le ultime specifiche delle funzioni di libreria per esempio avete dei dubbi su come funziona la CIN.get ecco te lo dà pure Google andate a vedere cosa dice C++ a proposito della CIN.get e in alcuni casi andrete a vedere andrete a vedere che vi riporta beh innanzitutto vi riporta sia le informazioni riguardo il C++ che il C sto vedendo adesso appunto che le mette tutte e due ma poi quando è specifico del C ++ vi dice pure se è una modifica dovuta allo standard C++11 entrato in vigore nel 2011 o se invece c'era già nel 98 nel C++ del 98 quindi quando avete bisogno di capire una funzione di libreria cosa fa in quale libreria si trova oppure avete proprio bisogno di capire una certa funzione di libreria una certa libreria cosa contiene e andate su questo sito e troverete tutte le risposte alle vostre domande qui vedete che la C string ci sta scrivendo qui c'ha dentro queste funzioni di libreria è una libreria C string c'ha tante funzioni di libreria e per ciascuna di queste basta cliccare per andare a vedere cosa fa io le riporto anche nelle slide queste funzioni di libreria però ripeto meglio andarle a vedere qui perché la definizione che trovate qui è aggiornata le slide mie sono di dieci anni fa non è che posso ogni volta starle aggiornare perché allora vediamo se non c'è stati cambiamenti come si comporta questa qui questa funzione con due argomenti di cui uno è un vettore di carattere e il secondo è un unsigned prende i successivi n-1 carattere dal flusso di input che gli viene passato in questo esempio qui cin e restituisce e li mette dentro la stringa che gli viene passata al primo argomento può fare buffer overflow perché no bisogna vedere cosa gli avete passato qui a n se gli passate una stringa che quando l'avete allocata era di dieci e qui gli passate cento fa buffer overflow non c'è nessun controllo il c non fa nessun controllo né tantomeno il c++ su questo n che voi gli passate qua all'atto della chiamata cosa fa? ripeto prende i successivi n meno carati dal flusso di input cioè dal flusso che gli passate qui dal flusso che specificate qui che poi che cos'è questo qui non lo riesco a dire perché ancora non abbiamo fatto la programmazione orientata agli oggetti e cominciamo giovedì penso specificherò meglio che cos'è questa cosa che sta prima del punto comunque va a prendere dei byte da questa roba qui dall'oggetto di cui il get è il metodo e restituisce 1 se va tutto bene a meno che nel prendere questi byte a un certo punto è arrivato alla fine del flusso nel caso del file è arrivato alla fine del file nel caso in cui il flusso si è attaccato a un file è arrivato alla fine del file in questo caso restituisce 0 vediamo un esempio abbiamo una variabile cognome con 20 caratteri scrivi al massimo 19 caratteri ecco questo è chiaramente dovrebbe essere scritto all'utente il numero massimo di caratteri che deve immettere in questi casi fa partire la cin.get e gli passa il vettore di caratteri e gli passa il numero 20 l'effetto sarà che tutto ciò che viene battuto sperando che batta meno di 19 caratteri viene e se ne batte 20 succederà e non c'è il posto per il timestamp che viene pure messo ma nel primo byte fuori il vettore cognome e speriamo che quel byte non crei problemi o non vada in segment violation o non vada a sovrascrivere un'altra variabile che era stata allocata subito dopo che differenza c'è fra questa get e l'operatore di prima l'estrattore e questa prende tutti i byte che legge e li mette anche quelli non stampabili addirittura cioè prende tutti i byte come voi sapete ricorderete ogni byte può essere interpretato come un ISO 8859 ci sono alcuni che non sono stampabili ma li prende e li mette comunque l'alternativa all'uso della get è la get line allora quella che ho riportato qui è la get line con tre argomenti maggiori informazioni le andate a trovare su quel sito che vi ho fatto vedere ma intanto qui ho cercato di riportare un po' tutto ecco quello che mi è sembrato importante riportare che cosa fa la get line se per esempio lo associamo come in questo esempio al flusso di input gli dovete passare al primo argomento il vettore su cui deve depositare i caratteri letti poi il secondo argomento deve essere la lunghezza massima come abbiamo visto prima stesso concetto ma qui c'è anche un terzo argomento che è un particolare asci che li potete passare all'atto della chiamata e che funge da separatore cioè in pratica cosa farà questa get line a partire dal puntatore sul buffer del flusso che gli passiamo qui va a leggere i byte e uno a uno li deposita sul vettore sul vettore string id passato qui e si ferma quando quando incontra n cioè quando incontra n quando arriva a n li conta da uno due tre li conta tutti quanti quando arriva n si ferma oppure si può anche fermare prima quando incontra il separatore leggendolo dall'input quindi per esempio se io passo qui come separatore non so la o minuscola supponiamo una cosa non so perché lo sto facendo ma supponiamo che gliela passi allora lui comincia a leggere tutti i byte dal flusso di input e si ferma o quando arriva a n cioè ha letto n byte e non ha letto la o minuscola oppure si ferma appena legge una o minuscola la prima delle due cioè il carattere che passo al terzo argomento viene interpretato come separatore come terminatore di lettura cioè smette di leggere quando incontra proprio quel byte lì che io passo al terzo argomento tutto quello che ho letto prima lo deposita sul vettore che ho passato al primo argomento se io passo qui al separatore il carattere newline cioè metto apice e scrivo slash n chiuso apice in pratica sto usando la get line per quello che era stata inventata e cioè leggere tutta una riga di testo fino a quando non si va a capo ma siccome era stato inventato per questa la get line il nome stesso lo tradisce questo scopo get line prendi tutta una linea di testo in pratica mettere qui il passare il newline significherebbe far partire la cin get line con due soli argomenti esiste una get line con due soli argomenti string ed n il terzo non c'è se il terzo non c'è cioè ha solo due argomenti si intende che il terzo è il newline quindi se voi siete interessati a leggere una riga di codici di testo fino a quando non termina la riga chiamate la cin.get line con due soli argomenti e non con tre il terzo è sottinteso essere il carattere il byte newline quindi questo concetto non c'era qui attenzione get legge fino a quando arriva n non c'è il terminatore di lettura con la get line invece c'è il terminatore di lettura il carattere di separatore il concetto di separatore tutte e due possono essere usate nei programmi a seconda di quello che è l'uso che il vostro programma richiede o interessante il separatore che passate qui per esempio quella o minuscola che dicevo prima legge fino alla o minuscola la legge la o non la mette nel file la o cioè nel vettore cioè arriva fino al carattere prima della o fino a quello mette nel vettore e poi nel vettore ci mette il byte zero e quella o e quella o è uscita dal buffer di input o dal flusso di input nel caso che abbiamo letto da file ma e non è stata messa sul sul vettore ma non c'è più nel buffer di input e quindi se dopo vado a fare una nuova lettura quella o non ce la trovo più viceversa se per esempio lanciate la get e poi battete anche invio tant'è che la get sta aspettando che battete invio la get legge tutti i caratteri se la letti tutti supponiamo l'invio non lo va a mettere nel l'invio comunque non lo mette nel coso nel vettore ma attenzione l'invio rimane sul buffer di input per cui se andate a fare una nuova lettura successivamente il primo il primo carattere che viene letto è quell'invio che era della lettura precedente tenetelo a mente perché probabilmente anche voi vi capiterà di fare confusione a un certo punto lanciate una get leggete quello che dovete leggere poi la successiva get non funziona vi non vi legge e dire perché perché ma il codice è perfetto perché la get di prima aveva lasciato sul buffer di input l'invio la get successiva la prima che si va a fare è leggere proprio quell'invio e dice vabbè non ha battuto niente non ha preso niente non mette niente sul suo vettore e va avanti il programma ma non carica niente sul vettore perché c'era rimasto il carattere invio della lettura precedente cosa che con la get line invece non accade perché con la get line viene strippato via il carattere new line adesso queste cose forse non sono chiare però quando che cominciate a fare degli esperimenti fate delle prove e piano piano vi si chiarirà quando che avete bisogno di spiegazioni andate su quel sito di prima ecco in particolare adesso stiamo proprio a fare la differenza fra la get e la get line addirittura la get pure potrebbe avere tre argomenti ecco non l'avevo detto un attimo fa la differenza fra la get line e la get è proprio questa che la get line toglie il carattere di delimitazione dal flusso e invece la get ce lo lascia ricordatevi si dai se usi la get ci vuole qualche cosa per pulire il buffer perché la cosa più brutale è mettere un'altra get che mette su una variabile carattere legge quel carattere lo elimina e poi tutto riparte normale o se no ci scrivi flush scrivete vi ricordate quando scriviamo end line mettete l'operatore di 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 estrazione e poi invece che handle scrivete flush questo fa sì che tutto il buffer venga ripulito e la successiva lettura dall'input riparte da zero da un buffer vuoto e quindi aspetta veramente che tutto quello che viene battuto poi viene scritto sul nuovo vettore viene di nuovo scritto sul vettore perché se no c'è un pezzo di buffer ripeto che deriva dalla lettura precedente non so se ho risposto non so se mi state capendo però dovremmo fare degli esempi ma se ci mettiamo a fare gli esempi fateli per conto vostro e vabbè con qualche esempio in realtà l'ho riportato sulla slide ecco questo qui fa partire la get line stringa nove allora supponiamo che quello batte Aldo Franco e Dragoni viene preso solo Aldo Fra perché perché si è fermata a nove banalmente che ne è di ecco con questo esempio ritorno sulla sulla questione di poco fa che ne è di di n co e tutto il resto stanno ancora là se fate partire adesso un'altra cin punto get nel codice andate a prendere quegli altri caratteri perché si è fermata al nove invece se questo nove e vengo a te supponiamo che fosse stato 90 invece che il nove mi seguite vedete questo nove supponiamo che sia 90 allora che cosa fa la cin get line va a leggere 90 caratteri ma siccome quello ha battuto Aldo Franco Dragoni e poi qui ha premuto invio non ci stanno questi 90 caratteri appena trova l'invio smette di leggere e tutto quello che è stato scritto viene messo sul file posto che si è abbastanza anzi ce lo mette comunque come sapete bene tanto quello scrive scrive stiamo ragionando è sull'invio ecco l'invio la cin get line la get line la toglie quindi dopo potete fare tranquillamente un'altra get line se fosse stata la cin punto get sarebbe rimasto ecco la differenza non so essere più chiaro di come sto facendo scusami la domanda sì certo io certo certo se io qui metto invece se metto 9 non c'è che essere problema ma se metto 90 c'è buffer overflow potrebbe esserci se batto più di 20 dipende dall'utente è chiaro? chiaro facendo gli esempi vi si chiarirà ecco tanto per aumentare la confusione siccome i linguaggi evolvono poi ci sono i dialetti eccetera esiste anche questa perché derivava dal c il c più più la prende e questa qui è la scrivere get line flusso stringa è come scrivere flusso punto get line stringa voi voi la userete questa? no non lo usate però la potete trovare e quando che la troverete direte oddio cos'è questa è così era un altro modo che si usava tempo fa di fare la get line quindi quindi cioè il flusso cin o pippo o quello che volete voi io vi ne è passato come argomento questa chiaramente non è un metodo di un oggetto e quindi non è c++ è c ma siccome c e c++ convivono a volte nei programmi potrete trovare ancora questa certo che se voi me la usate nel compito io non lo posso segnare errore però dico perché lo fate insomma andiamo avanti a meno che non decidete di fare proprio C che è una decisione rispettabilissima però se state usate nel C++ è inutile che scrivete questa ok vabbè stiamo andando alla fine della lezione di oggi quindi ve l'ho detto che è una lezione molto soft come si passano le stringhe e le funzioni come normali vettori attenzione però cerchiamo adesso di ragionare qui mi sono fatto ad esempio una funzione sotto stringa anzi una procedura che prende una stringa destinazione un'altra sorgente e un intero inizializzo un contatore interno e poi faccio partire un for da uno al numcar dove numcar è proprio il parametro che è passato al terzo argomento quindi faccio partire un for che girerà numcar volte aggiornando ogni volta il contatore di uno e che cosa farà per numcar volte andrà a mettere in destinazione quello che trova in sorgente aggiornando ogni volta il puntatore di uno quindi in pratica mi va a mettere in destinazione i primi numcar caratteri di sorgente quando che ha finito mette in destinazione il byte nullo per cui in pratica mi crea una sottostringa in destinazione della stringa che ho passato in sorgente per sottostringa intendo dire la sottostringa iniziale e poi questa funzione me la vado a usare all'interno del mio programma il mio programma legge una stringa dall'input lunga al massimo 42 caratteri e poi un pochetto di pazienza proprio su questo era l'esempio cioè io adesso uso questo programma perché armi una sottostringa iniziale non so perché mi è venuto in mente di fare questa cosa che c'è un senso non so se c'è un senso però si può fa cioè io gli passo attenzione la stringa istanziata si chiama s1 la stringa da istanziare si chiama s2 cioè i vettori si chiamano così gli passo sia in s1 che in s2 l'indirizzo del primo elemento ovviamente è una provocazione che sto facendo serve per ricordare a me stesso e a voi che è stata a legge questa scempiaggine che questo è inutile ovviamente perché il nome di una stringa altro non è che un puntatore al primo elemento della stringa quindi perché io gli passo l'indirizzo del primo elemento della stringa come indirizzo se questo valore quell'indirizzo sta dentro il puntatore s1 basta che gli passo s1 è la stessa cosa è la stessa cosa fino a qui è la stessa cosa e se io invece li passo se io definisco invece la stringa come allora come riferimento che diavolo sto facendo allora si può fare bisogna vedere se questa ha senso è l'ultimo esempio dove chiediamo chiedo un po' di ragionamento per oggi veramente adesso bisogna cercare di capire cosa sto facendo innanzitutto c'è type def qua su che abbiamo già incontrato quando abbiamo lavorato adesso con le stringhe ed è una parola chiave anche del c++ era usatissima nel c è usata anche nel c++ e serve per definire un nuovo tipo se io scrivo togliamo il type def vedete questa riga si vede il puntatore togliamo il type def se io scrivo char stringa 80 di 80 che sto facendo sto definendo un vettore di 80 caratteri e che si chiama string 80 se invece prima ci scrivo type def che differenza c'è? è una differenza importante non sto definendo una variabile di tipo vettore di caratteri ma sto definendo un nuovo tipo di dato che si chiama stringa 80 dopo di che io potrò usare stringa 80 come nome di tipo di dato non come nome di variabile quindi è tutta un'altra cosa sto facendo sto facendo tutta un'altra cosa proprio qui ho definito un nuovo tipo di dato che userò io nel corso del mio programma perché tantissime volte dovrò allocare in varie parti del programma dei vettori di 80 caratteri allora mi risulta comodo definire un nuovo tipo di dato str80 dopo scriverò str80 x allora x sarà un vettore di 80 caratteri qui non sto eccolo qua guardate qua giù nel main string 80 80s s è una variabile che cos'è chiaramente una variabile di tipo string 80 e string 80 che è è un vettore di 80 caratteri quindi s sarà un vettore di 80 caratteri e lo posso anche quindi inizializzare così nella funzione lunghezza io gli ho passato ci passerò un oggetto per riferimento perché chiaramente ci ho messo indirizzo qui quindi str è il nome del parametro e vi ricordate la differenza se quello fosse un intero e invece che string 80 se io passo per riferimento posso andare a prendere quello intero e modificarlo se invece non metto per intero è un passaggio per valore questo è un passaggio per riferimento ma io sto passando un puntatore per riferimento che cos'è il riferimento a un puntatore eh sì è quello che avete detto contiene l'indirizzo del puntatore adesso se io come in questa funzione lo vado solo cosa fa questa funzione questa funzione dentro mi definisce un contatore lo inizializza a zero poi guardate che questa è è una scheggia questa funzione qui è una scheggia fa partire un ciclo while che ha il corpo del ciclo while non esiste non fa niente c'è solo il test in questo while il corpo come vedete è vuoto non c'è nessuna istruzione questa è roba per programmatori raffinati dentro il test prende l'oggetto che gli ho passato per riferimento va a prendere di quell'oggetto che gli ho passato l'elemento di indice contatore aumentato di 1 post aumentato di 1 non pre aumentato di 1 quindi prima va a prendere l'elemento di indice 0 appena l'ha letto aumenta contatore di 1 ancora non ha fatto niente aumenta contatore di 1 poi va a vedere se l'elemento che aveva letto prima che ancora stava all'indice 0 è diverso dal byte nullo se sì che fa niente rifà il test del while e però nel frattempo facendo il test siccome dentro il test ci ha messo l'incremento di 1 il contatore aumenta di 1 non fa niente però rifacendo il test il contatore aumenta di 1 ogni volta il vantaggio di questa qui è che il contatore molto probabilmente il compilatore con questa scrittura qui lo lascia sul registro non lo va ogni volta a rimettere sulla ram risultando che questa qui diventa proprio una scheggia perché non va ogni volta aggiornare il contatore rimetto sulla ram lo riprendo riporto aumenta di 1 con la ink non so se vi ricordate ink sull'assembly non va ogni volta a fare ping pong fra la ram e i registri lascia il contatore sul registro e fino a quando non è finito il ciclo lo utilizza direttamente lo mette sul quarto registro lo mette su edx probabilmente alla fine risiedisce il contatore credo che più veloce di così non si possa implementare una funzione per calcolare la lunghezza di una stringa sì perché è nulla ma ci ha messo il byte sì è vero questo potrebbe essere un wow sì mi sa che hai ragione perché questa qui restituisce il contatore dopo il while ovviamente quando il contatore è stato ulteriormente ampliato a meno che noi lo facciamo partire da da meno uno però dopo meno uno ti dà problemi no 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 forse hai ragione te bisogna restituire contatore meno uno un po' strano però perché prima di scrivere l'avrò testato forse non mi sono accorto e questa è una delle cose che facevo quando volevo imparare insomma ecco poi non l'ho mai più verificata forse adesso appena torno in ufficio lo vado a verificare va bene e arriviamo quindi alla fine quella che avete visto a parte questo problema che adesso andrò a vedere è una funzione che mi so fatto io e me potevo pure fare una mia libreria giovedì vediamo come potete farvi la vostra libreria ma ovviamente non me la sono messa nella libreria questa funzione perché la funzione per calcolare la lunghezza di una stringa c'è già è string length e voi gli passate una stringa e quello restituisce questa funzione string length la lunghezza della stringa che deve essere un oggetto di tipo size t che normalmente è di tipo unsigned normalmente i compilatori size t lo prendono come unsigned quelle che state vedendo qui raccolte in maniera un po' posticcia sono e anche nella slide successiva troverete sono le alcune delle funzioni di libreria che stanno dentro la libreria c string attenzione il c chiamava questa libreria senza la c e mettendo punto h quindi l'analogo di questa libreria per il linguaggio c si chiama string punto h questa che vedete qui c string sarebbe quella libreria adattata al c plus plus ed è quella che adesso sta evolvendo appunto nel c 2011 è voluta le uniche commesse in rosso che proprio probabilmente userete nel compito che farete all'esame probabilmente c'è possibilità che le potrete usare è string copy string length che sarebbe quella che a parte il problema che ha messo in luce lui che vi ho fatto vedere un attimo fa però quella me la so fatta io ma tanto sarà sicuramente implementata così perché più veloce non credo e string copy le altre sono pure interessanti e dopo c'è la domanda che mi ha fatto lui e anche un paio di altre un paio di vostri con lei un paio di voi mi hanno fatto le posso usare all'esame queste funzioni di libreria allora e c'è anche queste altre qui certo che le potreste usare a meno che il testo non vi chieda di implementare quella funzione lì perché se il testo è chiaramente l'esercizio e riguarda la programmazione di una funzionalità come da funzione di libreria se voi mi usate la funzione di libreria state bypassando l'esercizio chiaramente tutte queste funzioni che vedete potrebbero essere esercizi d'esame possono essere impressionanti ma in realtà se ci ragionate si possono implementare tutte quante avete tutte come si dice la formazione ormai per poter implementare queste funzioni usare quelle di libreria probabilmente significa mettersi in condizioni innanzitutto di standard perché questo è lo standard del C++ si chiamano proprio così un programmatore che le legge legge il vostro codice capisce quello che fa perché dovrebbe conoscere quella funzione di libreria e poi soprattutto probabilmente sono state ottimizzate sì sono state ottimizzate escludo che uno di noi possa implementare una di queste funzioni di libreria in maniera più efficiente lo escluderei perché ormai sono funzioni che hanno più di 40 anni se ci fosse stata la possibilità di migliorarne una qualcuno se ne sarebbe accorto insomma ecco solo in C++ che non ha 40 anni ha di meno ma il codice sostanzialmente è il codice C importato nel C++ per capirci va bene ragazzi io sull'argomento delle stringhe altro non ho da dirvi per cui oggi la lezione la terminiamo qui grazie a tutti